Ci siamo, Dead Island 2, primo episodio, non vedo l'ora di vedere che cosa ha da offrirci. Posso dire che ho delle buone aspettative, passare dalle spiagge hawaiiane alle spiagge Los Angeles, secondo me sarà qualcosa di molto diverso, secondo me, non vedo l'ora di vederlo. Quando siamo andati a Lucca l'anno scorso siamo entrati nel padiglio di Dead Island e non vedevo l'ora che uscisse. Ok, filmato introduttivo, sperando che non me lo censurino, oh no, povero Flamingo. Sicuro questa musica me la censurano, primo episodio andrà a fanculo come al solito, sicuro. A meno che non tolgo questo pezzo, a meno che non tolgo la musica, però a quel punto perderebbe tutta... La sua emozione. Madonna mia. Già Dead Island 1 era bellissima, come proprio l'ambientazione, c'era tutte le strutture, l'hotel, tutto quanto. Qui abbiamo qualcosa di effettivamente diverso fra le mani, secondo me c'è... C'è veramente tanta carne al fuoco, stavo esattamente pensando a una frase del genere. Mamma mia, non vedo... non vedo l'ora di... di vedere che cosa salterà fuori. A livello di storia, ma a livello di gameplay soprattutto. A livello di storia, bene o male, sai... Sai bene o male cosa aspettarti. Ma è il gameplay quello che mi deve interessare. Voglio vedere se veramente mi... mi terrà attaccato. C'è pure qui un... Un... come si chiama? Un aero schiantato come nel primo, tra l'altro. Che però non mi ricordo se era Rift Tide o se era nel primo e basta. Dead Island 2. Con delle Malboro messe là sopra. Allora, devo essere sincero, bella questo filmato introduttivo. Ma ho preferito di più quello del... Del trailer di presentazione. Dead Island 2. Punto bianco. Se non riesci a vedere il logo, riduce l'indicatore finché non diventa visibile. È la madonna. Punto nero. Se non riesci a vedere il logo... È la madonna, ma... Capito però. Si vede niente. Hai sbloccato il pacchetto. Armi dorate. Questo era tutto quello che era già incluso all'interno della... della confezione. Ora potrai trovare le armi meteore e ceneri della buella da Dagia, il Serlis Hotel, Cavaocchi e Rovina Famiglie, Randello di Banoi e Mazza da Baseball di Banoi. Nonché il vantaggio per le armi Equilibrio, da Carlos, nella Villa di Emma. Inoltre, l'abilità Spazio Personale sarà disponibile nella tua raccolta una volta completato il tutorial nella raccolta abilità. Daglie. Non hai l'accesso a internet, ma non è vero. Forse magari devo fare un personaggio, non lo so. Ammazza zombie e nuova partita. Madonna. C'è ancora la palma, tra l'altro. Che bello. I sottotitoli forse li tolgo, però. Ok, sono uscito e rientrato per togliere i sottotitoli e il pros si è attivato. Fai esplodere i cervelli zombie con la doppietta lulata, attualmente regalo tramite Twitch. Vado subito. Ok, per avere questo devo guardare il drops di qualcuno per 20 minuti. Non è il momento. Perfetto, il pros è stato collegato. Hai sbloccato il sorriso malandrino. Lo trovi da Carlos? Non sappiamo ancora chi sia, ma grazie Carlos. Ah, aspetta tra l'altro, stavo pensando alla lingua. Però effettivamente non c'è la lingua italiana. Allora, ecco, perfetto. Se posso ridurli un po' di più i sottotitoli, grazie gioco, finalmente possiamo iniziare. Ecco, così è molto meglio. Se fosse un po' più bassi sarebbe ancora meglio. Ebbene, immagino. Big bro. Oh no, c'è un rapper. Ebbene, sì, sono un pompiere io. Bellissimo, qualcuno si è trasformato immediatamente. Poi arriva lei col motorino. Beh, vabbè, come vuoi tu, eh. C'è da dire che però... Oh, questo è attaccato, dai. C'è da dire che comunque... Sono preparati a questa epidemia. Avevano degli autobus con dei lanciafiamme. Serve aumentare un po' di più la luce. Una tiratina di cannina e via. Beh, un miglior selfie di questo non ti esce, sorella. Ok. Sambi, eccolo di nuovo. Sopravvissuto bellamente al primo gioco. Scegli con chi fare stragi di zombie a Hell. Ehi, mi sembra quasi la scelta dei personaggi in Diablo 2. Che figata. Comunque, sì, fammelo fare. Abbiamo Amy, Jacob, Bruno, Carla che sta menando uno zombie, lo zombie, Danny e Ryan. Ok, leggiamo un po' le caratteristiche. Attributi. Robustezza, resistenza, recupero salute, danno critico, agilità, salute massima, resilienza. Ottimo lancio e dividi e tempera. Recupera resistenza lanciando un'arma. Leggero aumento dei danni quando attacca gli zombie isolati. Ok, poi. Aumento della forza quando para o schiva e deve evitare un attacco. Recupera salute ogni volta che abbatte uno zombie. Ecco, quello non è male. Rappresaglie su e giù. Fulgorazione. Gli attacchi pesanti di Danny innescano una violenta esplosione all'impatto. Ok. Questa è molto resistente. Mentre lui è molto robusto. Danny recupera salute quando uccide più zombie in rapida successione. Ok, questo è buono per quando ci sono le ordate di zombie. Carla ottiene un leggero aumento dei danni quando avvicina più zombie. Quindi più ordate i zombie, più meniamo. Aumento moderato della robustezza mentre la sua salute è critica. Ok, questo non è male. Carla potrebbe essere buona, infatti, però ha poco danno critico. Lui invece ha molto danno critico. Pugnalata alle spalle, lo sapevo. Vedere uno che ha poca vita e tanto danno critico è sicuramente stealth. Moderato dei danni quando attacchi alle spalle. Agilità e cariche degli attacchi pesanti di Bruno parando o schivando. E infine Jacob. Molta salute, poca resilienza. Statistiche nella media. Un leggero aumento dei danni, cumulabile quando attacca in rapida successione. Ok, questo è buono. Mentre la resistenza di Jacob è bassa, i suoi colpi critici ricevono un aumento moderato dei danni critici e fanno recuperare la resistenza. Ok, in sostanza, quando è poca vita. Tanti critici, i critici fanno recuperare la resistenza quindi può attaccare ancora. Beh, non male. Potrebbe essere buono Jacob, però anche Carla mi ispira. Dai, va bene. Scelgo Jacob. Punto. Sorridi, raggio di sole. Sei con me. Vuoi affrontare LA con Jacob? Non potrei cambiare a metà storia. E Jacob sia. Tutto a posto? Beh, non sembra. Vabbè. Ok, troviamo dell'alcol. Il volo dei dannati, però aspetta. Devo controllare due cose. Niente sfocatura di movimento. Uno. Ha aumentato un po' la luminosità, vediamo come si vede. Un pelo meglio, forse troppo la luminosità. Comunque, cerchiamo dell'alcol. Moriremo? Ce la faremo a sopravvivere? Eccolo qua. Beh, non sembra un bell'inizio, eh. Ma no. Ah, che dolore. Sì, un cerottino. E via. Beh. Che dire, dai. Esci di corsa. Come faccio a correre? Come faccio a saltare? Con la X, ok. Magnifico. Splendido inizio, aggiungo io. E via. E via. Si corre. Certo che... Giocare questo gioco... E giocare anche da in light mi confonderà un sacco. Mi confonderà un sacco i tasti. E' scomparsa. Eh no, non è per niente buono. Questa invece è una bellissima immagine. Cripto inizio, Robin. Oh no, Crispy. Sembra si stia disintegrando come se fosse uscito dal Marvel Cinematic Universe. Beh, meglio che nulla, dai. Come faccio a dare i calci? Attaccare, attacco pesante. E niente, devo fare per forza quello che mi dice il gioco prima, vero? Non posso fare più cose che... Che io penso di sapere se non è il gioco a dirmene. Sì. Eh, esatto. Meglio sempre raccoglierle tutte le cose che troviamo, vero? Non sia mai che siamo degli accumulatori seriali. Si fa tutto questo per sopravvivere. Una torcia. Non è che c'è qualche oggetto nascosto subito qua nella prima aria? R3 per dare un calcio. Bon, perfetto. Già mi sto confondendo. Io stavo già per premere L1 per dare un calcio come su Dying Light. Buongiorno. Vedi? Questo succede quando ti dicono sull'aereo non andate in bagno quando siamo in salita o in discesa. E tu non ascolti. Eh, lo sapevo che finiva male. Lo sapevo che finiva male qua. A gira le fiamme. Come se volessi buttarmici in mezzo io. Come faccio a correre? C'è il tasto per correre? Prosegui, i superstiti devono essere vicini. L3 per scattare. Ecco qua, appunto. Ah, c'è la scivolata. Benissimo. Fantastico. Mi chiedo se la torcia in questo gioco abbia un... Un... Un cooldown. Ah, che è successo? Beh, stoppire a fire i tuoi fiamme! C'è il caduto? C'è qualcosa in questo gioco. Stai tornando. Questo lo prendo io. Ehi là! Non sono zombie! Non sono zombie! Calmina, dai! Va tutto bene! Cosa? Cosa? Eh, esatto. Lo sapevo. Lo sapevo che... Gliele tirava, ti giuro. Mi immaginavo che gliele tirava. Sì, lo sapevo che una grande stella è, Romero, winner no less. Ne abbiamo bisogno di tornare a casa, per la sicurezza. Hai, hai. Cosa è questo? Cuidado. Zombie? Uno è ancora vivo. Beh, mi sa che... Ne è rimasto poco, eh. Ah no, è ancora lì. Cioè, è ancora lì. Però è infetta, si vede. Ah, e mi sa che... Non sarà una bella scena. Vabbè. Scritto sul braccio, con che velocità? Non sento! Sombo? Eccolo lì, ti pareva. Chiedi aiuto. No, no, no. Qua finisce male, fidati di me. Ecco qua, vai via. Che bel bracino. E dove la trovo? Eccola. E quando mai? Prendi quel martello, forza, che io lo spacchiamo in testa. Come faccio a usarlo? Aspetta, aspetta, aspetta. Dai. Come faccio a schivare? Prendi l'altro martello? Allora. Al momento è meno veloce di Dying Light. Sono abituato a di peggio. Però effettivamente, questo era... Ecco fatto. Dead Island al tempo. Ma basta. Dammi tutta questa cura, va? Eh, allora mi cura, aspetta. Come faccio a vedere l'inventario? Batonna mia. Che dolore. Quando il zombie è ferito, cranio e il pestone. Ok. Come faccio a cambiare armi, io? Aspetta, aspetta. Credo che ci saranno ancora un bel po', amico mio. Come faccio a cambiare arma? Dai, forza. Madonna mia, se ne è volata. Ecco qua. Fai cadere la ruota in fiamme. Dove? E come faccio? E come faccio? Sì. Ah no, aspetta. Con L2 e poi lancio. Kaboom! Vieni qua, tu? Ecco qua. Dammi tutto quello che c'hai. Con chi stai parlando, scusami? Ah, con lui, eh. Ciao, ormai. Ormai mi sa che è andato, eh. Come on, Jay. Good bedside, manna. Hey. Oh, oh, cat. Oh, God. Come la fuck did this happen? Eh, bella domanda. Steady. We ain't lost yet. Hey, darling. Eh, viva? No, no. Mi sa di no, eh. Just take a sip. For me, yeah? Lo sapevo! Lo sapevo che finiva così! No! Come ti faccio? Eccola lì. Ma dai, con la scarpa! Ah. Fuck it. Come on, Jay. Stay level. Eh. Non è andata proprio bene, eh. Non è andata proprio bene, eh. Ma in quale? 66, Alpine Drive. Ma... Cosa è successo? Ci stiamo per trasformare? Ovviamente saremmo immuni. 100%. Però i zombie ci ignorano. Siamo noi quelli che stavano correndo? The Island. Due. Bello. Non ho nulla da aggiungere se non che già mi sta piacendo ora. Non ho nulla da aggiungere se non che già ne casse su come, è vero? L'ha? Che no. Perché? E' vero. Grazie per la visione!